Buongiorno a tutti da Marco a Coltelleria Scintilla. Oggi vi presento un coltellino portachiavi multifunzione, il Kershaw 1001. Che cos'è? Apriamo assieme. Eccolo qui. Moschetoncino. Noi lo apriamo e diciamo, boh, abbiamo il nostro serramanico. Vero? Qualcuno di noi avrà notato qualcosina nei miei movimenti. In realtà, oltre al serramanico, che cos'è? Tiriamo su la seconda lama. Eccola qui. Diventa una piccola forbice. Piccolo, comodo, leggerissimo. Kershaw. Ciao a tutti e alla prossima.